È stato illustrato oggi il protocollo che permette all'Also, l'azienda per il diritto agli studi, di uscire dall'emergenza all'oggi per i fuori sede. Un protocollo firmato con l'Ater nei giorni scorsi permette di rinviare innanzitutto al 31 luglio il trasloco della residenza studentesca dall'ex caserma Campomizi. L'Ater fornirà una palazzina a pettino che sarà riconsegnata a breve, ospiterà la casa dello studente a partire dall'anno accademico 2023-2024. Lo studentato per l'anno in corso resterà dunque nella Campomizi. La palazzina che sarà usata come casa dello studente sorge in via antica a Rischia, a fornire tutti i dettagli di un'operazione definita economicamente e socialmente molto vantaggiosa al presidente dell'Ater, Isidoro Isidori. L'Ater non ha soltanto case popolari che non saranno più tali per le ristrutturazioni che stiamo facendo, ma ha anche degli alloggi a canone concordato. Abbiamo convenuto, poiché un palazzo, l'H1, che è qui vicino, ci sarà riconsegnato a marzo, che con dei piccoli aggiustamenti potrà essere dedicato agli studenti. Saranno 20 appartamenti, 4 appartamenti per piano su 5 piani, che potranno ospitare fino a 100 studenti, nel rispetto delle normative previste per l'Azu. La convenienza di Ater è evidente, è economica, il canone concordato sarà pieno e sarà garantito il pagamento da un ente pubblico che evidentemente non pone problemi di morosità. Ci sarà anche un polo di servizi sempre lì per studenti con uffici Azu, Mensa e altre cose utili agli studenti fuori sede. La posizione delle case del resto è strategica perché a breve distanza dal polo di Coppito è ben collegata col trasporto pubblico locale. Il protocollo sarà attivo intanto per 6 anni con possibilità di rinnovare per altri 6 anni, questo in attesa di realizzare il vero e proprio studentato in centro storico. Soprattutto non perderanno i benefici della borsa di studio, i 10 mesi che sono poi requisito fondamentale ci sono. Abbiamo riaperto i termini e rinnovato la scadenza per le domande da parte degli studenti, quindi il 26 e non più il 23 di settembre. Stiamo lavorando con questo protocollo che abbiamo appena sottoscritto, già una dimostrazione, per una sede sicura, dignitosa, con Ater, di intesa con Ater, un clima di leale e proficua collaborazione. Nel frattempo abbiamo rimesso mano a tutta la programmazione ADS, come avevamo detto, e l'impegno è ormai superata questa difficoltà, sistemate gli studenti e quello di ricostruire finalmente la casa della residenzialità.